Valorizzare lo sport come grande strumento di inclusione e di coesione sociale per fare la differenza nel migliorare la qualità della vita di persone con diverse abilità e delle loro famiglie. Per questo il Rotary Club della città di Bari, l'Università degli Studi Aldomoro, l'Opera Piamonte di Pietà e Confidenze di Molfetta e il Centro Universitario Sportivo di Bari con il contributo di Banca Letti hanno deciso di dar vita a Cusability Sport Senza Limiti, un progetto che si è rivolto a 20 giovani allievi con diverse abilità sensoriali, motori e intellettivo relazionali. Si è svolto nell'aula del Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management del Politecnico del Capoluogo Pugliese un incontro consuntivo tra gli organizzatori del progetto filantropico lanciato nel 2023, gli atleti con diverse abilità di ritorno dalla prima gara regionale di nuoto svoltasi domenica scorsa a Canosa di Puglia e le relative famiglie. L'aspetto sportivo che è quello principale nel quale dei ragazzi con diversi gradi di abilità hanno l'opportunità di cimentarsi in attività sportive del mondo acquatico con l'obiettivo di avere un approccio non certo rieducativo ma assolutamente sportivo agonistico. L'obiettivo finale è quello di individuare dei talenti che possano partecipare a delle gare anche in ambito regionale e nazionale. E' l'aspetto sociale, la socializzazione, il risvolto umano. Provano beneficio praticando sport, questo chiaramente anche negli ultimi anni è consigliato, anzi l'attività sportiva, proprio per migliorare il benessere di questi ragazzi. E' fondamentale questo aspetto del Cusbari che non crea dei corsi ad hoc, però li integra insieme a tutte le altre attività, proprio per un discorso di inclusione, per non sentirsi diversi perché lo sport è uguale per tutti. Il nostro compito inizialmente è stato quello di farli entrare in acqua, farli giocare, farli divertire e farli rilassare. Una volta che si sono ambientati abbiamo cominciato poi a formare gruppi, perché essendo 16 ragazzi non potevamo assembrarli tutti insieme. Quindi abbiamo pensato prima di tutto di farli conoscere. Poi è partita un po' la parte tecnica, le partenze, l'arrivo, la nuotata a dorso, a stile libero e molti avevano parecchie difficoltà. Quindi abbiamo modificato un po' la bracciata, chi magari non riusciva neanche ad alzare il braccio, magari il dorso con le braccia giù, oppure chi non riusciva a respirare lateralmente, a fermarsi un po' e respirare, finché abbiamo visto che è cominciato a nascere quell'agonismo in loro e abbiamo cominciato ad insistere su alcuni. C'è chi abbiamo visto che voleva, voleva, ci ha dato grandi soddisfazioni perché poi in gara hanno dato il massimo e siamo tutti veramente entusiasti e dobbiamo ringraziare soprattutto le famiglie che ci hanno molto aiutato a capire il carattere del bambino perché non è facile capirlo. Però grazie al loro aiuto ci siamo riusciti e oggi siamo veramente soddisfatti.